Io vi ringrazio tutti per la presenza, soprattutto per il viaggio che avete fatto, tutti quelli che mi hanno sopportato da febbraio che sto organizzando, non ho preso il mio tempo, però sono contenta di condividere questo momento così speciale, ci tenevo a fare tutto perfetto per voi, perché siete i miei ospiti d'onore. Spero che questa serata vi sia piaciuta e grazie ancora per tutto. Grazie a te. Grazie a tutti. 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 Sì, sì, sì No, 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 no. No, 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 no.